Non posso non stare, grazie Big Luis, guardate qua, aspettate se no, grazie Big Luis Bella Omi, ho il pene piccolo E poi come ultimo pezzo Mi hai scammato per la seconda volta l'abbonamento regala Grazie Grande Omi BibliTap Grazie Rigdel, scusami, grazie per l'abbonamento regalo, grazie mille, grazie mille, è gentilissimo E poi, grazie Big Luis Buonasera modificati, buona settimana a tutti, bacioni Rolatura di oltre 100 giorni, Wagyu Spagna Dry Age, 100 giorni, 100 giorni E' meglio un pacco di wurstel o wurstel nelle pacche? Io direi, io direi che Cosa c'è Simone? Io so quando vieni Ma che cazzo fai? Tu sei meritato Buonasera bel pezzo di manzo 100% italiano Ah, mi hai fatto male No?